Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Molte persone che hanno l'ambizione di trasferirsi in Thailandia per un periodo che può essere più o meno lungo a seconda di questo siano una vacanza di un mese, due mesi, un periodo sabatico della propria vita oppure trasferirsi in pianta stabile molto spesso quando devono andare a quantificare di quanti soldi avranno bisogno per poter vivere in Thailandia fanno l'errore di considerare soltanto i soldi necessari al cibo, i soldi necessari a un appartamento, alla vita serale, a non leggere il motorino. L'aspetto più importante che bisogna affrontare nel momento in cui si decide di trasferirsi in un paese come la Thailandia è quello della polizza sanitaria. La polizza sanitaria perché in Thailandia l'assistenza sanitaria non è come in Italia che è pubblica quindi io non sto bene, vado all'ospedale e vengo curato praticamente a costo zero ma in Thailandia tutte le prestazioni di cui c'è bisogno sono a pagamento e come in realtà in altri paesi come un esempio l'America se si ha un problema di salute più o meno grave se non si ha la possibilità di fare a fronte a questa spesa quindi pagando i contanti, i cat e i credit o quello che è insomma il rischio è di non avere la prestazione e quindi di rischiare grosso. In Thailandia quello che può capitare banalmente può essere un problema legato a qualcosa che si è mangiato o semplicemente magari se si gira il motorino un incidente in Thailandia il traffico è sicuramente un traffico importante non è facile guidare in Thailandia ci sono insomma tanti mezzi in giro e soprattutto i tailandesi guidano in maniera abbastanza spericolata vanno molto veloce e gli incidenti sono molto frequenti. Per questo in questo video ci tenevo a farvi capire quanto può costare orientativamente una polizia sanitaria per una persona che decide appunto di trasferirsi. Ora io parlo di questa compagnia perché è quella che conosco meglio in realtà ci sono tantissime compagnie di assicurazione con il quale si può fare questa copertura definita long stay visa quindi per chi sta un lungo periodo in Thailandia quindi io vi parlo appunto di questa Bangkok Insurance con cui ho avuto anche un'esperienza personale l'ho avuta anche per quanto riguarda l'auto e ci tenevo a farvi capire quello appunto che può essere il costo bene, senza entrare particolarmente in dettagli ma vi lascio poi il link in descrizione fondamentalmente la copertura assicurativa il costo è un costo annuo e dipende dall'età ora se vediamo la tabella vediamo che un uomo italiano che diciamo tra i 51 e i 55 anni pagherebbe un premio di 38.800 baht quindi una cifra che è poco più di diciamo 1000 euro all'anno quindi mediamente siamo intorno ai 90-90 euro al mese se invece questo è un uomo più giovane, diciamo un quarantenne il costo da affrontare è intorno ai 31.000 baht quindi parliamo di circa malcontatti 850 euro e quindi sicuramente vediamo che il costo da affrontare è un costo diciamo non proibitivo ma è comunque importante considerare nel tuo budget questa cifra da pagare ogni anno e non fare assolutamente l'errore di avere dei mesi nei quali non si ha la copertura perché poi è quello del mese nel quale si ha il problema ovviamente all'aumentare dell'età aumenta ovviamente anche il costo se pensiamo a un 71enne pagherebbe 98.400 quindi quasi malcontato insomma più di 2500 euro quindi sicuramente è una cifra importante da mantenere budget c'è da dire che per chi conosce o chi ha avuto qualche esperienza con la sanità stagionandese soprattutto quella privata parliamo di strutture sanitarie di primissimo livello quindi dove si ha veramente la possibilità di essere curati bene in maniera efficace e rapida di strutture ottime veramente accoglienti e ripeto direi veramente di primissimo livello quindi vi lascio in descrizione questo link a questa bank location dove potete vedere i dettagli leggere le postille se siete interessati in realtà c'erano due piani piano 1 e piano 2 io vi ho parlato di pezzi di piano 1 il piano 2 fondamentalmente comprende dei massimali più alti quindi il piano 1 è assolutamente sufficiente per garantirvi la copertura come sempre se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like e se i contenuti del canale vi piacciono vi chiedo anche di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanella per le notifiche e come sempre ci vediamo al prossimo video ciao e grazie ciao